Musica Benvenuti, benvenuti ad una nuova puntata del nostro magazine di informazione religiosa La Chiesa nella città Iniziamo subito con un annuncio bello che riguarda il Fondo Famiglia Lavoro e lo ascoltiamo direttamente dalla voce del Cardinale Scola Eminenza, riparte il Fondo Famiglia Lavoro è una nuova modalità, nuove modalità e step diversi con che logica riparte? Ma diciamo che la logica profonda è quella che la dottrina sociale della Chiesa ci insegna e cioè che la proprietà privata non significa possesso individuale non annulla la destinazione universale dei beni e di conseguenza la Chiesa intende farsi carico e condividere il bisogno di tutti e questa è stata la logica che il Cardinal Dionigi ha seguito in questa geniale intuizione in questa seconda fase i collaboratori della Curia hanno messo a tema secondo me intelligentemente un adeguamento delle modalità anche in considerazione del fatto che la crisi che si pensava a più breve termine è ancora profonda e radicale e si sono cercate forme più rispondenti alla fase attuale della crisi un annuncio importante e atteso che arriva nel contesto dell'incontro promosso dalle fondazioni Cariple Pubblicità Progresso con il titolo più sociale nel social strategie e strumenti per diffondere il concetto del bene comune tema frequente non solo nel ministero episcopale dell'arcivescovo ma anche nella sua intera riflessione filosofica che infatti emerge nella lezione magistralis con cui il Cardinale apre la tavola rotonda quali allora il significato del bene comune appunto il contributo che i media possono dare alla crescita di questo valore chiave spiega il Cardinale ma anche il senso della nuova laicità come valore di convivenza condiviso in una società con molte diverse visioni del mondo e infine il terzo settore, l'economia, il lavoro interviene in videoconferenza anche il ministro del lavoro Fornero e sono molte le voci autorevoli che si confrontano in ogni caso chiare le parole dell'arcivescovo mi sembra giusto riconoscere che una società impoverita come la crisi ci sta mostrando non può fare a lungo da parafulmine ad uno stato povero e inefficiente se una risposta statalista pervasiva oltre a non suscitare alcun fascino non risulta praticabile per ragioni finanziarie il ritorno ad un liberalismo minimalista nel quale lo Stato si spogliasse semplicemente dei suoi compiti perché non è in grado di perseguirli in proprio non aprirebbe spazi creativi per la società civile Per chi ci ascolta in diretta di giovedì l'annuncio sul fondo Famiglia Lavoro è venuto proprio in queste ore e quindi certamente approfondiremo poi i diversi gradi di elaborazione di questa seconda fase nella prossima puntata della nostra chiesa ora potremmo dire da un cardinale all'altro perché a Milano era nei giorni scorsi anche il cardinale Ennio Antonelli presidente del Pontificio Consiglio per la Famiglia che ha partecipato a un incontro nel contesto del percorso verso Family 2012 Avere buone relazioni con gli altri e con Dio per vivere meglio perché, e certamente la chiesa non lo dice da adesso il sostegno ai correttivi economici sono necessari ma la crisi è anche, e drammaticamente, crisi relazionale il cardinale Ennio Antonelli, presidente del Pontificio Consiglio per la Famiglia definisce così la possibilità di uscire appunto dal travaglio presente soprattutto imparando qualcosa i nuovi modelli sociali, la crisi e l'evoluzione degli stili di vita e d'altra parte il titolo del dialogo che vede la partecipazione presso il centro congressi San Fedele anche della vice sindaco di Milano Guida dell'assessore alla famiglia Boscagli e poi di sociologi nella tavola rotonda e del presidente della Compagnia delle Opere Scholz impegnati tutti, nella seconda delle quattro serate dedicate in vista di Family al tema complessivo, dalla crisi economica alla speranza affidabile Mi pare che si stanno dando dei segnali giusti e quindi la lotta all'evasione fiscale e quindi la lotta alla corruzione amministrativa e quindi il progetto per il lavoro gli investimenti più mirati per l'innovazione sono tutte cose che vanno nella giusta direzione mi pare Le virtù sociali, come le chiamava Giovanni Paolo II nella Famigliare Sconsorzio sono la struttura comunque portante di una comunità associata che non può esaurirsi con o nel mercato famiglia che è soggetto intermedio della società come luogo concreto di solidarietà gratuita qui lo Stato deve riconoscere il ruolo di vera e propria impresa sociale Però credo che appunto l'unità e lo spirito di creatività di tenacia che il popolo italiano ha siano un'ottima base di partenza un motivo di grande fiducia Insomma, stare bene insieme si impara appunto in famiglia che diviene così anche scuola di vita Scuola apprezzata come testimonio una ricerca condotta nei 47 paesi aderenti al Consiglio d'Europa Per tutti al primo posto la famiglia 91 italiani su 100 lo affermano al secondo posto si classifica come valore il lavoro Tuttavia occorre notare che non è una famiglia immediatamente sovrapponibile all'unione sancita dal matrimonio Famiglie e dunque giovani, ragazzi e propri 14 anni saranno i protagonisti Sabato 5 maggio alle ore 17 dell'incontro presso il Sacromonte di Varese con l'Arcivescovo per la loro professione di fede Il titolo di quest'anno è Effatà e l'appuntamento per tutti è alle ore 15 alla seconda cappella del Sacromonte per partire poi in un itinerario che appunto alle 17 vedrà invece la presenza del Cardinale Scola E ora rimaniamo con i ragazzi per un momento bellissimo nella nostra chiesa cattedrale permettetemi di dirlo anche per chi è abituato a frequentare il Duomo per i servizi che vi mostriamo è stata un'emozione ve la vogliamo raccontare così è l'incontro sempre dell'Arcivescovo che incomincia a conoscerci un po' tutti con i Chierichetti Si definisce con un sorriso io che sono il vostro nonno e che i Chierichetti gli siano nel cuore lo si era già capito il giorno del suo ingresso solenne in Diocesi come Arcivescovo a malgrate suo paese natale nella parrocchia di San Leonardo la prima intervista infatti per così dire il Cardinale Scola l'aveva fatta proprio con i Chierichetti ma qui in un Duomo in festa per la messa dove l'incontra per la prima volta sono in 5.000 e arrivano da tutta la Diocesi e allora anche l'intero Melia nella quale l'Arcivescovo si rivolge direttamente ai ragazzi diviene un modo per parlare della bellezza di ritrovarsi nella fede che è fonte di verità ed espressione di bene dice non c'è cosa più bella ve lo dico io che sono il vostro nonno non c'è cosa più bella che è l'amicizia di Gesù perché non viene mai meno non ci lascia mai soli è qui che si radica la possibilità di essere testimoni anche da piccoli avendo conosciuto il Signore noi dobbiamo essere testimoni contagiosi di questa gioia e arriva anche un richiamo se tu senti nel tuo cuore se percepisci una inclinazione a dedicarti a Dio non importa che età puoi essere anche molto piccolino mi raccomando di non trascurare questa cosa di prenderla molto molto sul serio poi il messaggio di ringraziamento scritto e letto davanti al cardinale da un ragazzino emozionato e la festa che pare non finire mai e noi proprio a quel ragazzino emozionato e a una sua amica un po' più piccola addirittura abbiamo chiesto perché si diventa Chierichetti io penso che il Chierichetto vuol dire che è un servizio che noi facciamo per Dio è un mettersi in umiltà e servire qualcuno che è più grande di noi qualcuno che ci vuole bene e che è morto per noi ecco cosa vuol dire fare Chierichetto tu da dove vieni? da Sesto San Giovanni nella parrocchia di San Giovanni Bosco Chiara tu sei ancora più piccola fai la prima media e per te invece cosa vuol dire essere Chierichetta? essere serva del Signore e per me quando sono sull'altare è una gioia immensa perché so di servire qualcuno più grande di me e mi piace tantissimo i ragazzi ma anche più piccoli i bambini capiscono che è bello stare insieme magari con i coetanei ma che dietro c'è qualcosa di più grande nel fare il Chierichetto qualcuno lo capisce fin da subito per molti invece inizia come un gioco e poi scoprono che c'è un tesoro dentro il servizio che fanno i bambini sono aperti al Signore le nostre famiglie trasmettono ancora dei valori penso ai genitori dove apprendono le prime nozioni della vita sì ragazzi i bambini sono apertissimi al Signore si tratta di educarli e dar loro far intravedere loro una strada per conoscere il Signore Gesù per crescere e a volte questo è faticoso però loro sono apertissimi e disponibilissimi si tratta solo di tirare fuori questo grande tesoro sì esatto e ora per noi due appuntamenti dal territorio domenica 29 aprile alle ore 10 e 30 presso la parrocchia di Santa Maria Assunta in piazza San Cristoforo 2 a Guanzate che è in provincia di Como ma ovviamente in diocesi celebrazione eucaristica con l'arcivescovo nella sua visita il cardinale benedirà anche la casa di accoglienza il cortile celebrerà la messa nella giornata mondiale di preghiera per le vocazioni e ancora sempre raccontandovi come l'arcivescovo stesso ci ha indicato di fare noi lo facciamo volentieri quello che accade nella nostra diocesi domenica 6 maggio alle 10 e 30 parrocchia San Vittore Martire vicolo la chiesa 12 alla Inate in provincia di Milano celebrazione eucaristica sempre presieduta dall'arcivescovo e ora è tutto per la prima parte del nostro programma ma rimanete con noi perché torneremo insieme come sempre con tanti servizi e anche una piccola sorpresa a tra pochissimo due minuti di pubblicità ben ritrovati con la chiesa nella città vi presentiamo adesso i dati di una ricerca promossa da azione cattolica ambrosiana sui giovani perché svela qualche falso mito ebbene si dice un giovane su tre non ha lavoro il dato corretto è 5 al massimo 7 giovani su 100 noi abbiamo chiesto cosa emerge nel complesso da questa ricerca ai due vicepresidenti settore giovani proprio di azione cattolica è un segnale di speranza noi abbiamo tra gli intervistati un 20% di giovani che lavorano a tempo indeterminato un'altra buona percentuale a tempo determinato quindi ci fa dire non tutti i giovani sono disoccupati una percentuale lavora si aprono però altri problemi sono i problemi delle disuguaglianze di genere fortissimi fin dall'inizio sono i problemi della scarsa interconnessione tra lavoro e università e comunque problemi di un lavoro flessibile precario che non dà spazio per un'indipendenza per andare a vivere da soli e costruirsi una famiglia autonomamente quindi luci e ombre comunque per esempio la differenza di genere diciamolo come donne rimane un dato sensibile in senso negativo purtroppo moltissimo non ce l'aspettavamo e invece per esempio tra i giovani che hanno incontrato a tempo indeterminato gli uomini sono il 52% le donne sono molto più propense poi a cercare subito lavoro part time lavoro flessibile lavoro precario e questo pone delle domande perché sono giovani che arrivano tutti dalla stessa università quindi se la formazione è uguale da dove nascono le differenze di genere e forse da un retaggio culturale forse da una predisposizione già di sensibilità diverse e quindi socializzazione diversa al mondo del lavoro giovani lavoro nell'epoca della flessibilità lo chiedo tra l'altro a un giovane ma siete bamboccioni o no? qualcuno sicuramente sarà bamboccione però arrivare a dire che lo siamo tutti forse un po' dura siamo una generazione che è un po' figlia del suo tempo sicuramente siamo nati nell'agio nelle comodità però stiamo cominciando ad affrontare un bel cambiamento e siamo belli armati secondo me siamo una generazione che riesce a creare un'app a far milioni lavorando con un computer in casa che è disposta a muoversi che parla le lingue che sa incontrare tanta gente quindi tutti i bamboccioni forse no qual è secondo te il dato positivo che emerge dalla ricerca e quale invece quello più negativo? penso che emerga un ottimismo penso che ci siano tanti giovani disposti a fare dei sacrifici a fare degli spostamenti ad accettare una situazione anche difficile il dato negativo è che il problema del lavoro non è legato tanto alla disoccupazione o solo alla disoccupazione non si può riassumere in quella percentuale il problema grosso è che tutto il sistema sociale intorno sembra non funzionare i giovani non soffrono un contratto con una scadenza soffrono il fatto che la società non è adatta ad accogliere questo tipo di contratti cambiamo decisamente argomento alla fondazione Corriere della Sera la presentazione di un libro è stata occasione per mettere qualche puntino su lei proprio a proposito di giornali fede e cultura singolarissimo giornale lo definì benedetto sedicesimo nei 150 anni della sua fondazione considerato a lungo una sorta di foglio informativo per quanto di alto profilo essenzialmente per il suo editore la Santa Sede l'osservatore romano da qualche anno è qualcosa di più dal 28 ottobre 2007 da quando con il nuovo direttore Giovanni Maria Vian l'osservatore ha imboccato decisamente la strada di un radicale rinnovamento attento agli approfondimenti a diverse voci anche di non credenti all'attualità nato il primo luglio 1861 oggi pubblicato in più lingue e diffuso in 129 paesi del mondo il quotidiano è ormai entrato a pieno titolo nelle rassegne stampa di ogni orientamento e allora interrogarsi sulla sua natura attraverso la meritoria pubblicazione da parte di Vita e Pensiero del volume uno sguardo cattolico cento editoriali dell'osservatore romano come si è fatto presso la fondazione Corriere della Sera è stato un modo anche per illuminare la nostra storia tra impegno giornalistico come ha sottolineato il direttore del Corriere De Bortoli alla cultura secondo quanto ha detto il ministro proprio per i beni culturali ornaghi sottolineando come anche il cardinal Scola il titolo felice della raccolta sguardo cattolico e sguardo si potrebbe aggiungere di cultura quando parliamo di fede e cultura abbiamo sempre tenere conto di questo doppio movimento la fede è cultura e la cultura interpreta la fede questo è un punto su cui si lavora molto poco infatti come scriveva il cardinale Ratzinger nel 1994 quando la fede dice all'uomo chi è e come deve cominciare ad essere uomo crea cultura ed è essa stessa cultura parlando in una società prurale dobbiamo ovviamente parlare di culture e parlare delle interpretazioni che loro fanno della fede lo fanno in vari modi riducendola spesso se non addirittura strumentalizzandola come avviene in modo dolorosamente clamoroso nei fondalismi integralisti che sono spesso violenti esattamente così è una preoccupazione per esempio che animava Montini nel 1950 quando confida a Guiton un grande intellettuale francese dice cosa serve dire la verità se gli uomini del nostro tempo non ci capiscono quindi in questo senso il rinnovamento è necessario e deve essere continuo l'osservatore giornale diversissimo ma anche apertissimo sì proprio per mantenere un'altra caratteristica sottolineata da Montini cioè che l'osservatore mantiene una fraternità di linguaggio e di rapporti e adesso ancora cultura con la fotografia che crea che crea la magia e autrice Margherita Lazzati di questa magia con una mostra che resterà alla fondazione Ambrosianeum fino al 9 maggio cosa significhi essere cacciatrice di miraggi lo abbiamo chiesto direttamente a lei cacciatrice di miraggi viene dall'infanzia dalla caccia al tesoro dalla gioia di quello che trovi e la mia ricerca da anni è proprio di trovare dove non ce lo si aspetta qualche cosa che ti faccia gioire e questo per me che giro con una piccola macchina fotografica in tasca è il regalo che il sole fa continuamente foto certamente molto belle ma allora forse non studiate proprio nei minimi particolari ma a volte frutto anche proprio di questa caccia al tesoro allora assolutamente non studiate e c'è da dire subito che io fotografo con una piccola macchina digitale in automatico e non taglio le foto e non faccio nessun tipo di lavoro di postfazione la foto che scelgo è lo scatto che io ho fatto qual è la fotografia prediletta? dunque è la sintesi del miraggio ed è vista pizza albana è una montagna che ho visto in un caravan d'acciaio su una pista di sci c'è da dire che tutte queste foto io le ho trasformate in cartoline mail che ho inviato a diversi destinatari tipo? personaggi famosi amici e miei nipoti giovani studenti ne è risultato una sorpresa enorme le foto tornavano indietro con dei commenti meravigliosi suggerimenti anche di non parole ma di brani musicali per esempio il maestro Claudio Abado mi suggeriva di ascoltare il preludio del primo atto dell'Oingreen guardando la foto galleggianti uno dei commenti che più mi ha colpito è proprio al mio miraggio preferito che è vista pizza albana e cosa dice? allora il giovane fotografo Simone Baudo che commenta adoro il cielo tenuto insieme con delle viti saldate mi sembra una rappresentazione molto sincera dello stato della nostra società c'è chi quel cielo lo fa scoppiare e chi per fortuna lo rimette insieme la cacciatrice di miraggi documenta questo e ora per noi la segnalazione di un appuntamento sempre molto amato che quest'anno sarà per martedì 8 maggio alle ore 10 presso il seminario Cvescovile di Venegone Inferiori in provincia di Varese la festa dei fiori con i festeggiamenti per alcuni anniversari di messa quest'anno anche la commemorazione di Monsignor Luigi Serentà che avrebbe compiuto i 50 anni di ordinazione alle ore 11 celebrazione eucaristica con i cardinali Scola e Cocco Palmerio siamo ora al momento della parola di Dio e di un breve commento in questa quarta domenica di Pasqua lettura del Vangelo secondo Giovanni in quel tempo il Signore Gesù disse ai giudei le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono io do loro la vita eterna e non andranno perdute in eterno e nessuno le strapperà dalla mia mano il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti e nessuno può strapparle dalla mano del Padre io e il Padre siamo una cosa sola per fare esperienza di Dio non basta dire Dio ma ci vuole molto di più occorre conoscerlo nella sua vita intima dentro come nel suo interno ecco Dio è una parola che usiamo troppo spesso da adito a diverse interpretazioni e diversi riferimenti con questo Vangelo veniamo introdotti nella vita stessa nella vita intima di Dio dove noi non saremmo mai arrivati dove noi anche approfondendo col nostro pensiero non avremo mai scoperto la bellezza che ci viene rivelata e ci viene non solo rivelata ma data in dono come esperienza e dimensione vera della nostra esistenza sono le parole semplici e sorprendenti di Gesù a rivelare il suo legame con il Padre fino ad essere un'unica realtà un incontro di persone vive nell'amore ecco a questo noi siamo chiamati e per fare esperienza di Dio occorre conoscerlo e accoglierlo dal di dentro di questa dinamica di vita e di amore c'è tutta la logica della conoscenza la necessità della conoscenza e la bellezza le pecore conoscono il pastore mi conoscono mi seguono c'è la promessa di una vita piena la vita eterna e c'è la certezza di doverci muovere e nelle circostanze diverse della vita sapendo che siamo dentro questo vincolo e questa comunione tra il Padre e Gesù così possiamo dire Dio davvero con la vita e con un orizzonte che ci eleva fino a questa partecipazione alla comunione stessa che è la modalità con cui Dio esiste vive e vuole che esistiamo viviamo e raggiungiamo il senso pieno della nostra vita se vi siete chiesti dove è stato registrato questo commento al Vangelo di Monsignor Stucchi che ringraziamo bene eravamo a Villa Cagnola Gazzatele di Schiano presso Varese complesso monumentale splendido del diciottesimo secolo che vi abbiamo un po' voluto mostrare che continueremo a farvi vedere nelle prossime settimane ora è davvero tutto io vi do appuntamento con la chiesa nella città per giovedì prossimo come sempre alle 18.30 e poi su Telenova News canale 664 la domenica vi segnalo solo dopo la messa dal Duomo ore 10.30 e alle ore 13 grazie per averci seguito arrivederci grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.